Perché maestria contagiosa? Perché noi non siamo più avvezzi a pensare alla nobiltà che c'è nell'idea di maestro. Siamo così ignobili da pensare che l'eccellenza si trovi ai vertici dell'insegnamento quando uno diventa un professore. Un professore, piacere, professore. Oggi ho lezione, professore. Il maestro fa scuola, il professore fa lezione e il maestro fa scuola. Il guaio è che tra i professori che ho avuto nelle università, quelli che erano professori e non maestri dicevano oggi ho lezione. Quelli che erano dei maestri, uno, due, forse un'altra metà, diceva adesso scuola. Solo che questo professore maestro lascia l'impronta. Il professore, professore, mette il voto e l'unica impronta che ha lasciato sul libretto però, mica nell'anima. Perché la maestria non è una questione di professionalità. Cioè la professionalità è svolgere una professione. Mi hai chiesto di fare quella cosa lì. Io te l'ho fatta. Basta, no? La professionalità dentro la vita della conoscenza è come una istruzione. L'istruttore deve dirti tutto. Foglietto delle istruzioni. Libretto delle istruzioni. Ci deve essere scritto tutto, no? Adesso ha preso il videoregistratore. Allora, portoghese, spagnolo, ungherese, greco, coreano, giapponese, inglese, francese, tedesco. Quella lingua è questa qua. Beh, non si capisce però perché non c'è l'italiano? Tutti i libretti delle istruzioni, c'è tutte le lingue, ma l'italiano non c'è. Però lì c'è scritto tutto. Libretto delle istruzioni perché ti deve istruire. Ti deve dire tutto. Ma non ti dà tutto. Quando anche hai letto, aprire lo sportello A, abbassare la leva C. Devi vedere la figura perché aprire lo sportello A, abbassare la leva C. C'è anche la manina. Il problema è che non capisci come si fa aprire. Lo so che c'è scritto aprire, ma si apre così, si apre così, si apre così. Fare leva, fai leva, tascepat. Ecco, hai fatto leva nel punto sbagliato. Ti dice tutto, ma non ti dà tutto. L'opposto è il maestro. Il maestro come tale non ti dice tutto, però ti dà tutto. E il tutto che viene dato dal maestro è il metodo. Sai, se io ti dico tutto, ma non hai da me il metodo esecutivo, ti ricorderai anche tutto. Ma se poi ti chiedono, e come si fa? Invece, se ti trovi di fronte a una novità che non era contemplata nelle istruzioni, ma tu hai ricevuto il metodo per risolvere quella novità che sarà come un problema, non hai bisogno di andare a vedere il libretto delle istruzioni. Hai il metodo e quindi risolvi il problema. Il maestro non ti dice tutto, ma ti dà tutto, cioè ti dà il metodo. Per cui, quando uno ricorda i propri professori, uno di questi è stato il maestro, gli altri no. Perché è stato il maestro? Perché ti ha dato il metodo, no? Il mio maestro era Bontadini, il quale a lezione ricordava sempre il suo maestro Masnovo. E diceva, Masnovo faceva lezioni un quarto d'ora. Però erano delle lezioni. E quindi cosa voleva dire? Che non ti diceva tutto, ma ti dava un metodo in base al quale tu poi saresti stato capace di affrontare anche le cose di cui non ti aveva ancora parlato. Non perché le avesse taciute, perché non voleva dirtele, ma perché non si era incontrato in quelle situazioni lì. e quindi non poteva neanche comunicartene. Ma avendoti dato il metodo, queste situazioni che lui non ha visto e tu non avevi ancora visto, quando te le trovi di fronte, con il metodo assunto dal maestro e tu le risolvi, no? E questa modalità comunicativa del metodo non è un'istruzione, è un contagio. Contagio, no? Supposto che vi sia l'importanza delle istruzioni, non è detto che tu sappia nello stesso modo il contenuto che ti viene dato così come lo sa chi te l'ha dato. Ma se chi ti ha dato quel contenuto ti ha contagiato, tu le conoscerai come le conosce lui. E il maestro fa così. Quelle nozioni poche che ti dà sono così contagiate dal suo metodo che tu non soltanto le ricordi perché te le ha dette, ma sai anche svilupparle secondo il modo con il quale le hai viste che le ha sviluppate lui, no? Il metodo è contagioso. Contagio. Contagio è contatto, eh? Contagiare. Contatto. Questa è destra, questa è sinistra. Quando la destra tocca la sinistra e la sinistra tocca la destra chi ha il primato? Non c'è più il primato, si chiama contagio. È il medesimo tatto. Quando uno è contagiato da un maestro che cosa sarà diventato? Un maestro. Il maestro, se è contagioso, ti dà la sua maestria e uno che riceve la maestria del maestro sarà ammaestrato. Ammaestrato dal maestro. Il risultato per lui sarà l'essere maestro, un altro maestro. Anche perché Aristotele dice una cosa bellissima, che una realtà è perfetta quando è capace di fare un'altra realtà simile a sé. Quando il maestro è diventato maestro? Quando è stato capace di fare un altro maestro. E quindi si diventa come maestro insieme. Uno attivo, l'altro passivo, ma nell'essere insieme questo è il contagio. E poi, questo contagio è così bello perché mentre nell'istruzione sai, chi sa, sa. Chi non sa, torna. Nell'ammaestramento chi sa, bene. Chi non sa, non se ne va finché non sa. Maestro è così. Non ti lascia andare finché non sai. E non è non lasciare andare per una costrizione. E non lasciare andare perché esiste un raffinamento nell'azione di ammaestramento. Perché il risultato ha un'efficacia infallibile.